Ben ritrovati, un saluto a tutti come state, di nuovo buona giornata e buona settimana da Milanello, la casa dei milanisti su YouTube, vi invito a iscrivervi qui, se non l'avete ancora fatto mi raccomando attivate la campanella, chi non si iscrive ti fa Inter, scherzi a parte ragazzi iscrivetevi mi raccomando e lasciate un bel like se la pensate come me, ma anche se non la pensate come me, se apprezzate il nostro impegno quotidiano accanto e per la C.Milan. Vi ricordo anche che tra meno di due settimane, quindi affrettatevi, domenica non di questa settimana, la prossima, possiamo già dire settimana prossima, di domenica alle 19.45 facciamo il primo party natalizio di Milanello al ristorante locale Phil di Serenio, l'ingresso costa 15€, comprensivo di consumazione apericena, prenotate il vostro tavolo, vi metto lo whatsapp qui sotto così che siete tranquilli, avete il posto assicurato, la prenotazione non costa nulla. Di più appunto ci sono tante prenotazioni, saremo tanti, serata tutta rossonera con tanti ospiti, vi aspettiamo, qui sotto appunto potete prenotare il vostro tavolo. Allora ragazzi, pausa delle nazionali che è iniziata, ieri questa partita, confesso non ho visto, non è che voglio boicottare però non mi interessava, ma magari voglio anche boicottare, insomma senza la nazionale a livello di coinvolgimento, purtroppo siamo messi male. Il paradosso che ieri c'è stata questa amichevole inutile della nazionale, l'abbiamo persa anche contro l'Austria che non ci batteva da una vita, ed è oltre il danno alla beffa, insomma è una situazione che non ci meritavamo, ecco. Poi ci sono tanti non italiani che ci seguono e quindi beati voi se fate i mondiali in bocca al lupo. Ho visto, ecco lo dico subito, siamo qui ovviamente, pausa, si può parlare anche di altro, ma parliamo anche di noi in questo video, nella seconda parte. Ovviamente si può parlare anche di chi è andato via, non scrivetemi pensiamo a noi, eccetera eccetera, ovviamente pensiamo a noi, però non scendiamo in campo per un mese, si può pensare anche a un mese e mezzo, mamma mia. Si può pensare anche a quello che è stato del Milan, tante cose che ci dicevano e che non sono state, vi ricordate ci dicevano senza Donnarumma il Milan perderà 15 punti, il miglior portiere del mondo, è un fenomeno, come fa il Milan a non dargli quello che chiede, 9-10 milioni di euro a stagione, da pazzi, eccetera eccetera. Ma, ma, il tempo è galantuomo, è stato galantuomo in tempo zero per noi, però ecco, vedendo ancora quello che è successo ieri, secondo me è giusto ribadire un concetto per tanti motivi, per come ci hanno fatto una testa tanta quando il Milan non rinnovava Donnarumma, no? E noi da un punto di vista economico abbiamo fatto bingo, perché non abbiamo seguito un ricatto che ci avrebbe fatto penare da un punto di vista economico, ci siamo presi un giocatore pagando nel cartellino, ma che complessivamente nell'operazione ci costa meno, un giocatore che secondo me è molto più forte rispetto a Donnarumma. Ieri, se avete visto la partita, io non l'ho vista, ma ho visto poi gli highlights, il gol che prende sul primo gol non facile, prende coi piedi la palla va dentro, il gol che prende sul calcio di punizione di Alaba è grave, è un erroraccio, a certi livelli secondo me è inaccettabile, poi la foglia morta, la palla traiettoria è molto centrale, lui non deve neanche muoversi a destra o a sinistra, è ben posizionato, Non può la palla passargli tra le braccia in quella maniera, a livelli comunque di nazionale, massima espressione, lui tra l'altro in campo è il giocatore più pagato, degli azzurri ma non solo, per questo insomma vedendolo ogni volta lui commette sempre errori, sempre sempre quanti, col PSG quanti ne abbiamo visti, con la nazionale quanto ne abbiamo visti, da quando è andato via. Fa specie pensare che nei giorni scorsi la sua agente, la Pimenta, ha espresso un concetto che lui aveva già manifestato, cioè via Dalmina non per soldi, ma per crescere dal punto di vista sportivo, per uscire dalla comfort zone, per migliorarmi. Ragazzi, oggi è passato quanto? Un anno e mezzo, non è migliorato, ci dica almeno la verità che i soldi sono importanti. Poi sicuramente sono un po' prevenuto nei suoi confronti, perché al di là del fatto che è andato via in quella maniera, che quando Maldini gli chiedeva ma allora, e lui diceva no, no io non parlo, parla con il mio agente. Tradendo un po' anche un rapporto affettivo, che per forza di cose c'era con il Milan e con Maldini stesso, lo vedo un po' come simbolo di questo calcio dei mercenari che vanno dove ci sono i soldi, tradendo magari la tradizione, la famiglia, l'appartenenza, andando via senza riconoscere nulla al proprio club, a zero di fatto, no? Quindi sicuramente sono un po' così coinvolto, però dico obiettivamente che lui non cresce mai, commette sempre i soliti errori, quindi dopo un anno e mezzo ribadisco. Ecco, mi ricordo che avevo detto questa cosa anche nel video quando è arrivato Mignan e è andato via Donnarumma, dicevo ragazzi siamo liberati di uno che ci ricatta sempre e che poi non ci ha portato solo una volta in Champions, altre volte insomma di errori ne ha fatti spesso anche da noi, no? E come mi dice un vecchio maestro, il bravo portiere, il bravissimo portiere non è quello che fa la paratona, è quello che fa la paratona ma che sbaglia meno di tutti e non è Donnarumma. Poi Mignan ha fatto i suoi errori, anche lui pochi, pochi pochi, una frequenza incredibile invece per quanto riguarda Donnarumma che è andato via non è cresciuto, quindi se voleva andare via per crescere non sei cresciuto. Ebbene dico quel giorno, ricordo quel pomeriggio, quel video, quando abbiamo l'ufficialità di Mignan, non mi aspettavo potesse fare così bene e ora dico ragazzi meno male che torna, non è una notizia così. Andando a vedere, noi abbiamo fatto senza Mignan, il portiere più forte della Serie A, che che ne dica Orsi, che dice Provedel è il migliore, anche Mignan è inferiore a lui, con tutto rispetto perché Orsi insomma sicuramente ne sa più di me, però Mignan è superiore a Provedel. Con tutto rispetto, ecco, ma molto anche per quanto mi riguarda, e sicuramente anche Vicario è superiore a Provedel. Noi stiamo facendo meno di Mignan dal 18 settembre, abbiamo fatto due mesi senza Mignan, due mesi in cui non si è giocato una volta a settimana, due mesi in cui si è giocato le partite due volte a settimana. E' passato un po' in Cavalleria perché già lo scorso anno era fuori, abbiamo perso una risorsa importante, molto importante, anche se poi con Tatarussano abbiamo perso soltanto una volta in campionato, abbiamo fatto un pareggio in campionato, le altre abbiamo vinte tutte. Però magari col Toro avranno potuto vincere, non lo so, in ogni caso il recupero di Mignan è una cosa fondamentale e secondo me rispetto a chi c'era prima è un upgrade incredibile dal punto di vista tecnico, caratteriale, di leadership ben venga. Tatarussano, ripeto, in campionato i risultati sono dalla sua, però dobbiamo fare un upgrade dal punto di vista del dodicesimo. A gennaio io mi auguro di avere Mignan di non perderlo più, per l'estate però deve essere uno degli obiettivi. L'Identikit è un giocatore italiano per la questione liste, potremmo secondo me di smettere sia Tatarussano che Mirante o magari lasciare Tatarussano a quel punto come terzo, ma potremmo prendere anche due portieri. Vi dicevo italiano, il dodicesimo per la questione liste, per non andare a togliere posto a nessun altro, per la questione vivai italiani ne puoi mettere quattro che non vanno a inficiare sul resto della lista, che abbia un costo accessibile perché Mirante deve fare operazioni e non vuole spendere tanto per il dodicesimo, che si possa spostare quindi a poco o a zero. So che mi commenterete, Carnesecchi, Vicario, Provedel, eccetera eccetera, però sono giocatori portieri forti, che costano, costano troppo. Per quello che deve fare il Milano non può permettersi di spendere tanto per il dodicesimo. Come vi dicevo nel video di questa mattina, confermiamo, il nome caldo è quello di Marco Sportiello, che potrebbe raggiungere già un accordo prima della fine dell'anno, ha 30 anni, gioca nell'Atalanta, quest'anno ha fatto tra l'altro sei presenze perché ci sono stati problemi con Musso, lui costa zero perché in estate si libererà appunto a zero dall'Atalanta, è un giocatore che ha 30 anni per un portiere, quindi potremmo dire che nel pieno della maturità, non ha per tese di fare il titolare e ha la bellezza di 190 partite in Serie A con 53 clean sheet. Ha giocato nell'Atalanta Primavera, poi Gibonsi, Frosinone, Carpi, Fiorentina e poi Atalanta con un contratto che scadrà il 30 giugno. Quindi ragazzi, concentriamoci anche su questo aspetto, non da sottovalutare perché insomma il dodicesimo l'abbiamo impiegato molto quest'anno e lo scorso anno. Ditemi che cosa ne pensate ragazzi rispetto anche a Donna Roma, che per tanti che ci dicevano errore, è gravissimo, Milan perderà 15 punti, sono spariti tutti, e noi invece non ci dimentichiamo nulla, ci segniamo tutto e poi facciamo sempre un richiamino come in questo caso ieri, secondo me è un errore grave. È un errore che se fa Tata Rosano va in prima pagina, lo fa Donna Roma invece no. Il post partita gli è stato chiesto da Marchisio, un po' conciliante, poi Adani dice il presentatore, bravo perché riconosce gli errori, insomma giusto, così è cresciuto, eccetera eccetera. Gli errori li fa sempre, eppure non se li lascia mai alle spalle, non li supera mai. Ditemi che cosa ne pensate ragazzi, poi state seguendo voi il mondiale. Ieri mi è sembrata una partita tra scappoli e ammogliati, così ho letto, soprattutto il Qatar, squadra imbarazzante, ho letto, ho sentito. Oggi è il 21, ne mancano, ne mancano. Però ragazzi dai, pensiamo che finirà questo periodo, mamma mia. Vi rimando al video di questa mattina, se non l'avete ancora fatto, vi ripeto, il 4 dicembre, domenica, la settimana prossima, una festa natalizia, un party tutto rosso-nero di Milanello. Vi aspetto numerosi qui sotto le coordinate per prenotare il vostro posto, confidanzato, amici, organizzatevi. Iscrivetevi qui se non avete ancora fatto, chi non si iscrive ti fa Inter, lasciate un bel like, vi aspetto, magari ci vediamo anche più tardi per altri giornamenti. Un abbraccione a tutti.